e benvenuti in questo video di xd quasi un nuovo video su gt 5 online oggi vi volevo fare vedere questa nuova attività abbastanza abbastanza friula cioè noi che viene da friul veneto e giulia però che diciamo è abbastanza dinamica ecco fungo in pratica si chiama sede di potere diciamo in particolare questa è la quarta mappa man mano che è ucciso la gente vi spiego cos'è questo sede di potere allora in pratica al centro della mappa c'è un simbolo del juggernaut e chi lo prende comunque assume le forme del juggernaut ecco qualcuno l'ha preso e niente chi lo tiene più a lungo vince la partita in questa partita siamo quattro squadre siamo quattro squadre di solito se ne fanno due però sono in quattro non so il perché ecco lei camperino di turno ok il juggernaut lungo non ha la stessa vita della modella il juggernaut dovete saperlo ne ha molta meno godetevi lo spettacolino attenzione il mio compagno ha preso la l'armatura e sta facendo punti guardate in alto al centro ecco lo hanno ucciso per miseria allora io ci provo a prendere l'armatura ragazzi ok sono riuscito ci siamo con lo viola un arancione che mi sta dando un po' sui nervi ragazzi sono concentratissimo no dai ragazzi manca pochissimo ma no abbiamo fatto il punto l'abbiamo fatto attenzione ok un punto per noi e tutti gli altri a zero ricomincia l'altro round ok già la carabinata special ce l'ho anche ragazzi io tiro una granata quello viola e c'è una rosa no ma chi cacchio no abbandono l'unico della squadra io ho la pazienza perché ce n'è uno da solo nella squadra non ce n'è solo uno e vabbè che possiamo fare ok perfetto non l'ho ucciso io però va bene ok vorrei uccidere quell'arancione ok perfetto perché era quello che ha ucciso in juggernaut precedente no dai ragazzi con i mini che non sono molto bravo anche perché non me lo sono mai acquistato online ok perfetto cioè online intendo free mod ragazzi stiamo no no mannaggia mi hanno proprio tripellato ragazzi come vedete non ha la stessa vita della modella di juggernaut si può vedere benissimo perché quello là ci stavi due ore a ucciderlo come minimo ragazzi ho fatto prendere i juggernaut a mio compagno vediamo se riusciamo a fare il secondo punto ragazzi sta per finire il tempo ok non mi ha ucciso il juggernaut però mi ha ucciso un odio l'avo e finisci il round round vittoria vincitore eccoci nel secondo round penso che questo sarà l'ultimo cioè che vi farò vedere perché comunque sono tre round ok ragazzi io miro alla carabina perché senza di quella non vai da nessuna parte ve lo assicuro e vedete con la carabina sono molto più potenti diciamo dell'ak vabbè fucile d'assalto quello che sia perché poi l'ak trovo abbiamo iniziato male no ho di provo a fare più fortunato sai che hanno fatto il punto ah no no l'hanno ucciso perfetto ora no gli dobbiamo fare prendere a quelli rosa il coso magari no perché se no ma finisce male ragazzi il lancio non accompagna quindi è difficile che riesci a mantenere il juggernaut ragazzi non lo capiscono cioè non lo capiscono che se fanno prendere il juggernaut a rosa abbiamo perso tutti quanti non mi ucciderò a me allora vediamo ci proviamo noi a prendere eh che siamo messi in una posizione sbandaggiosa eh vedi eh ragazzi siamo messi in una posizione sbandaggiosa eh pensavo no 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 non mi uccide non mi uccide fammi prendere la carabina eh pensavi eccolo qua la carabina ragazzi forse potremmo ribaltare le sorti della partita ok mi cambero qua dietro ragazzi è l'unico modo no ma mannaggia chi so io mentre ragazzi hanno vinto no vabbè dai dai ancora c'è tempo dai dai muori se fanno il punto hanno vinto ok l'ho fermato in tempo vai abbiamo fatto il punto e andiamo e abbiamo fatto il punto ragazzi siamo di nuovo in pari con quelli rosa perfetto abbiamo ancora la nostra carabina speciale fatti grazie all'esplosione non mi vedeva e che vuoi tu allora vediamo no 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 non scherzavo e qua c'è il mio compagno mi zia l'hanno proprio fatto volare a quello eh vabbè ragazzi fa senso quelli rosa mi preoccupano perché sono molto forti ecco appunto dai 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 vai da tanto avanti che sono con meno vita no vai comunque ragazzi non ti ho detto che vi di genere la salute che ho finto eh le vabbè perché hanno maggiore va beh ragazzi comunque se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace se no pazienza iscrivetevi al canale e per altri contenuti e ci vediamo al prossimo video ciao